Parleremo oggi del concetto di innovazione e delle imprese sociali e del rapporto che esiste tra innovazione e imprese sociali. Nel dibattito dominante l'idea che le imprese sociali siano imprese innovative è preeminente. In realtà se noi scaviamo nella realtà empirica, nell'evidenza empirica, scopriamo che le cose sono un po' diverse, ovvero ci sono delle imprese sociali che sono molto innovative, ci sono delle imprese sociali che sono abbastanza innovative, ci sono delle imprese sociali che sono poco o per niente innovative. Per esempio noi abbiamo interi settori oggi di bisogni sociali che sono fondamentalmente non affrontati dalle imprese sociali. Parliamo per esempio di tutta la tematica del dopo di noi per gli anziani, parliamo per esempio dei ragazzi e dei giovani che non lavorano, non studiano, cioè ci accorgiamo se facciamo una fotografia molto ampia dell'impresa sociale, che l'impresa sociale su certi settori è presente in modo innovativo, su certi settori è meno presente. Allora questo ci apre alcune questioni, cioè ci induce, ci porta a ragionare su che cos'è l'innovazione per l'impresa sociale, come può manifestarsi e quali sono i fattori che ci interessa approfondire per capire quando e come le imprese sociali diventano innovative. Allora una prima questione da affrontare è questa, è uno, in cosa consiste l'innovazione? L'innovazione può essere di tanti tipi, di tante tipologie, abbiamo delle innovazioni che riguardano per esempio il target dei beneficiari, i gruppi diciamo dei beneficiari, poi abbiamo delle innovazioni di processo, poi abbiamo delle innovazioni di prodotto, cioè l'innovazione può essere estremamente differenziata. Inoltre l'innovazione può essere, come tecnicamente si dice, incrementale o radicale. Incrementale vuol dire che si migliora l'esistente e quindi di per sé si potrebbero anche migliorare dei processi produttivi non particolarmente innovativi, per esempio l'assistenza domiciliare potrebbe essere innovata con micro innovazioni. Questa è l'innovazione tipo incrementale. L'innovazione radicale invece significa di raffrontare nuove questioni con modalità completamente diverse ed inedite. Quando parliamo di innovazione dobbiamo distinguere quindi tra l'innovazione che c'è e che non c'è e in seconda battuta il tipo di innovazione che può essere radicale, incrementale, di processo, di prodotto eccetera. Un terzo elemento da considerare in modo importante è l'effetto dell'innovazione e dove si muove l'innovazione. Oggi parliamo in un modo a mio parere un po' superficiale di innovazione senza distinguere per esempio se l'innovazione delle imprese sociali è finalizzata all'inclusione sociale, è finalizzata a dare risposta ai gruppi marginali, è finalizzata a perseguire degli obiettivi di giustizia sociale oppure parliamo con lo stesso nonchalance di innovazione per organizzazioni che forniscono servizi a pagamento. Ora si tratta di due questioni completamente diverse perché un conto è lavorare all'interno di un perimetro dove l'inclusione, la giustizia, i principi etici sono presenti, un conto è lavorare fornendo servizi al mercato pagante, il che significa dire chi non ha soldi non può accedere ai servizi, chi ce l'ha può accedere. Quindi anche da questo punto di vista l'innovazione è qualcosa di ulteriormente diverso, di ulteriormente complicato. Una terza questione che è fondamentale per approfondire questo concetto di innovazione per le imprese sociali è capire il tipo di variabili collegate ai diversi tipi di innovazione. Per esempio se noi abbiamo a che fare con processi innovativi orientati al mercato, tendenzialmente le variabili organizzative e di governance con cui abbiamo a che fare saranno modelli gerarchici, saranno modelli con grosso dimensionamento, saranno modelli basati sul principio di efficienza. Se noi abbiamo a che fare invece con innovazioni che perseguono obiettivi di giustizia sociale, quindi sono rivolte, le azioni sono rivolte a dare risposte a soggetti con scarsa capacità di acquisto o nulla capacità di acquisto, i modelli organizzative di governance delle imprese sociali saranno completamente diversi. Per esempio ci saranno governance molto più allargate, molto più partecipate, ci sarà un'attenzione al rapporto con la comunità diverso, ci sarà un lavoro di rete molto differenziato eccetera eccetera. Quindi quando noi parliamo di innovazione e dobbiamo sempre interrogarci di cosa sta dietro questo concetto. Cosa sta dietro questo concetto rimanda un po' ai temi che vengono approfonditi nell'ambito del master e sono i temi dei fattori, delle variabili che influiscono e dei processi che influiscono sulle diverse tipologie di innovazione. Noi abbiamo diversi tipi di innovazione possibili, più radicali, meno radicali, più tra virgolette sociali, più orientati al mercato. A seconda dell'obiettivo che vogliamo perseguire in termini di innovazione dovremo lavorare su certe tipologie di variabili organizzative, di variabili legate alla governance, di variabili legate al finanziamento e quant'altro. La conclusione di tutto questo ragionamento e tutto questo breve discorso che ho fatto qual è? È che è molto improprio oggi pensare che l'impresa sociale sia una organizzazione, una tipologia di impresa che di per sé produce innovazione. Si può produrre innovazione o non produrre innovazione, si può produrre innovazione di tipologie estremamente differenziate. Per produrre le diverse tipologie di innovazione abbiamo bisogno di conoscere, comprendere, governare una serie di fattori, una serie di variabili che di volta in volta sono oggetto di studio, riflessione, attenzione, eccetera.